buongiorno a tutti oggi è lunedì 27 febbraio sono le 9 38 siamo dal vivo sui mercati ecco un bel rimbalzo con un lap up di spinta che ci ha permesso di superare la media mobile a 50 periodi e si sta fermando su quella a 200 sono sempre delle medie mobili che ci aiutano a comprendere tante cose che cosa ci eravamo detti per quanto riguarda il nostro mib come di consueto bisogna andare a capire cosa può essere partito da qui perché abbiamo avuto una violazione di uno swing importante che se non avrà non verrà seguita da volumi a ribasso farà quello che è stato fatto in precedenza qui piuttosto che qui violazione di uno swing anche grosso attesa per una discesa volumi in verde in acquisto e quindi annullamento della discesa per la partenza di questo biennale ciclico per questo motivo ho chiesto al gruppo di riguardare bene da dove può essere partito un nuovo mensile eventualmente oltre a quello che può essersi chiuso qui piuttosto che qui piuttosto che bisogna vedere perché ci sono tante variabili e quindi oggi mi rimetterò a vedere un attimo che cosa ha elaborato il gruppo per capire se siamo già vincolati a ribasso come mensile oppure no ed è una cosa fondamentale da comprendere perché se fossimo già vincolati ribasso si possono esserci fughe per chiusure di che cosa per la chiusura attesa tra l'altro di un primo settimanale inverso con baffo rialzista ma poi si dovrebbe tornare a scendere quindi una candela di oggi che rimanesse verde andrebbe benissimo per la chiusura per avere la condizione necessaria sufficiente per la chiusura di un t inverso ma poi se non iniziassimo di nuovo a scendere ecco sapete dove passa al punto punto j da alcune parti adesso andremo rifarlo anche qui cosa faremo oggi sul mib prima di tutto andremo a vedere qui se siamo ancora entro le 44 barre ok e ragioneremo di capire quanto si può iniziare a scendere dopo aver toccato la media mobile a 200 periodi anche nell'alternativa che potremmo avere ovvero quella relativa a una partenza di un settimo t meno 3 inverso da qui che peraltro ci darebbe già la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del settimanale inverso perché sarebbe già ribassista ma sarebbe arrivato solo a 15 barre e quindi ne servirebbero almeno 24 come minimo quindi fino alle 12 almeno le 12 dovremmo aspettare e vedere se andremo a cercare un top per chiudere tutto il settimanale inverso appunto con un buffo rialzista questo è il primo compito che ci diamo sul mib mentre riflettiamo come detto su quale delle varie possibilità siamo perché qui manca la violazione dello swing per la partenza di un t settimanale però con la discesa che c'è stata e quindi fossimo comunque in questo caso avremo 1 2 3 raccordo 4 5 6 6 cicli giornalieri chiuso l'inverso dovremmo scendere e potenzialmente tornare sotto questo minimo a 26.867 ok questo è il programma per quanto riguarda il dax anche in questo caso apertura in super rialzo anche in questo caso ok si ci può stare anche nel caso che questo sia il terzo di settimanale e non 9 10 11 ok capite molto bene che se andassimo qui sopra qui si trova il punto j se superassimo questo punto qui avremmo un settimanale che in realtà è partito da qui è sceso fino a qui ha fatto una finta di partenza di nuovo settimanale tra l'altro con la violazione dello swing per il settimanale stesso e poi si è concluso qui vedete a mischiare le acque sono sempre molto bravi per cui noi ragionando esclusivamente con le regole non con le opinioni andremo a ragionare sul da farsi anche per quanto riguarda oggi perché qui eravamo appena andati in death cross e qui stiamo andando con i prezzi stiamo provando ad andare sopra le due medie mobili per far risalire in golden cross la media mobile a 200 periodi a 50 periodi in ross per cui di nuovo trading soltanto in intraday e con i livelli dell'algoritmo sapremo dove ci sono magari delle forti resistenze e dei validi supporti per poter fare trading durante la giornata mi raccomando anche in questo caso abbiamo avuto una bella violazione di uno swing deve essere come di consueto confermata dai volumi altrimenti c'è poco da raccontarsi d'accordo? vediamo se hanno se si sono avvicinati a chiudere questo annuale inverso verso il massimo del tempo oppure se hanno voglia ancora di dare l'ultimo colpo prima di iniziare seriamente a scendere vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché ho già deciso così arrivederci grazie a tutti